Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì porta avanti la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo. Questa è la seconda parte della trasmissione, quella che è alle ore 19 e incominciamo. E in questo momento ci stiamo leggendo la seconda parte del Gesù di Nazareth, l'infamia umana. La seconda parte, siamo arrivati al nono pezzo, le tentazioni e oggi cominceremo con le tentazioni, naturalmente il prezzo è abbastanza breve, come commento è quasi più lungo la lettura del Vangelo che ne facciamo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesano 8 Marghera, Vi do l'indirizzo dell'istituto, metteranno studi politeisti, che è Casella Postale 53, Marostica, Vicenza. Bene, sono riuscito a tirare una decina di coppie di Giuda, Tommaso, Didimo, l'ultimo stregone pagano. Adesso in una settimana circa le incollerò, le sistemerò. E per giovedì prossimo penso di poterle cominciare a distribuirle se qualcuno interessa. Vi ricordo che la vendita, cioè vendita per modo di dire, cioè con quelle copie, mi darete praticamente un contributo, oltre a prendervi il libro che vi può interessare, sempre che ha qualcuno interessi, mi aiuterete nell'acquisto del fotocopiatore, o nella sistemazione del fotocopiatore, quello che praticamente uso da battaglia. Poi la maggior parte dei lavori invece la faccio nei collaudi, la faccio su altre macchine. Bene, vi ringrazio a tutti quanti, ringrazio a tutti quelli che sono venuti anche a portarmi la loro solidarietà materiale e fisica. E niente, penso giovedì prossimo, da giovedì prossimo potrò cominciare a distribuirlo. Stasera cominciamo le tentazioni, siccome però il pezzo è abbastanza piccolo, faremo tutta una serie di integrazioni, delle tentazioni, fra le altre cose anche con un pezzo che leggeremo da Giuda Tommaso di Dimo, l'ultimo stragone pagano. E allora vediamo cosa dicono le tentazioni. Matteo. Leggiamo sempre i primi Vangeli da Matteo e poi il commento. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato dal diavolo. Egli, dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, finalmente ebbe fame. E il tentatore a costosi gli disse, se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pani. Gesù disse, sta scritto non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo trasportò nella città santa, lo pose sul pinacolo del tempio e gli disse, se tu sei il figlio di Dio, gettati di sotto. Poiché sta scritto, agli angeli suoi ha dato ordine per te, essi ti porteranno sulle mani finché il tuo piede non inciampe in qualche pietra. Rispose Gesù, sta pure scritto, non tenterai il Signore Dio tuo. Il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro magnificenza, poi gli disse, tutto questo io ti darò, se ti prostri e mi adori. Allora Gesù rispose, vattene Satana, poiché sta scritto, adorerai il Signore Dio tuo e servirai a lui solo. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco gli angeli si avvicinarono e lo servirono. E la stessa cosa la troviamo in Lucca. Gesù pieno di Spirito Santo, pieno del Spirito Santo, tornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Egli non mangiò niente durante quei giorni, alla fine ebbe fame. Allora il diavolo gli disse, se tu sei il figlio di Dio, dia questa pietra che diventi pane. Ma Gesù gli rispose, sta scritto, non di solo pane, vivrà l'uomo. Il diavolo allora sollevato in aria, gli mostrò in un attimo tutti i regni della terra e gli disse, io ti darò tutta questa potenza e la loro gloria, perché è stata data a me e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostrerai davanti a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose, sta scritto, adorerai il Signore Dio tuo e servirai lui solo. Il diavolo lo condusse infine a Gerusalemme, lo pose sul pinacolo del Tempio e gli disse, se tu sei il figlio di Dio, buttati giù di qui, poiché sta scritto, ha dato ordine per te e i suoi angeli affinché ti proteggano e che ti portino sulle loro mani affinché il tuo piede non urti contro una pietra. Gesù gli rispose, non tenterai il Signore Dio tuo. E dopo averlo tentato in tutti i modi, il diavolo si allontanò da lui per un certo tempo. Cioè questo qua, per non inciampare in una pietra, aveva a disposizione tutti gli angeli dell'universo. Cioè non che lui sapesse camminare. Senza gli angeli dell'universo non sapeva nemmeno camminare. Commenta dunque. Dopo questi brani tratti da Matteo e Luca, avrei dovuto ammetterci ciò che in Giovanni va sotto il titolo Gesù ribatte all'alterigia dei giudei. Ma non è molto appropriato, in quanto anche se Giovanni sposta lo scontro dal fantastico al quotidiano, le finalità sono diverse. La costante sta nell'ottenere la sottomissione sconfiggere i nemici costruendosi i nemici ad hoc. La diversità sta nel fatto che Giovanni non ha nessuno che può contestargli quanto dice, in quanto i testimoni o sono morti o scacciati da tempo dopo la distruzione del Tempio nel 70. È una costante nei Vangeli. Gesù è riconosciuto come figlio di Dio dagli spiriti impuri, dai diavoli, prima che dagli astanti, ai quali ha bisogno di proclamarsi. E sono gli spiriti impuri che lo sfidano, quasi mai uomini. Le tentazioni sono un modo per ribadire la figlianza di Gesù con il Dio degli ebrei. Vediamo i punti caratteristici di questi racconti. Primo, Gesù condotto dallo Spirito Santo va nel deserto. Secondo, gli viene fame dopo 40 giorni. Terzo, trasforma le pietre in pani, dice il diavolo. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola uscita dalla bocca di Dio, risponde Gesù. Quattro, gettati dal pinacolo del tempio, tanto gli angeli ti sosterranno, dice il diavolo. Non tentare il Signore Dio tuo, risponde Gesù. Cinque, dal monte mostrate di tutti i regni del mondo, tutto questo ti do se mi adori, dice il diavolo. Adorerai il Signore Dio tuo e adorerai solo Lui, risponde Gesù. Tutto il racconto mira a costruire la dualità. Gesù proviene da Dio. Gesù non è in grado di dispensare sapienza, deve imporre a sé stesso. Per imporre a sé stesso si costruisce un nemico ad hoc, col quale scontrarsi. Dio è l'essere assoluto da cui tutto proviene, e Gesù per le sue stesse affermazioni è suo figlio. Pertanto è padrone e signore di tutto l'esistente. Il diavolo non ha altra possibilità che dare al figlio di Dio ciò che già il figlio di Dio appartiene. La scenetta è un po' ridicola. La prima obiezione è non di sola parola divina vive l'uomo, ed è un'obiezione sostanziale in quanto chi è affamato è disposto a tutto pur di soddisfare la fame, anche ad accogliere la parola divina. Non si tratta della stessa fame, per scelta, di chi digiuna. Si tratta della fame nell'esistenza quotidiana, quella che costringe gli esseri umani a supplicare o a combattere per soddisfarla. Chi digiuna affronta una sfida fra sé e il circostante, e nel momento in cui decide di farlo, non gli interessa la fame, ma l'obiettivo per il quale digiuna. Chi ha fame tutti i giorni, di tutte le cose esistenti, non soltanto di cibo, ma di tutto quello che c'è nella quotidianità, e a cui non può accedere, è disposto a ben altre concessioni che non quella di adorare il diavolo. Lo sanno molto bene i cristiani, che per evitare questo, metteranno a guardia i loro eserciti e accenderanno i roghi. Il messaggio di Gesù è questo, dovete adorarmi anche quando avete fame e siete sommersi dalle disgrazie. Subito dopo c'è un altro messaggio, non tentare il Signore Dio tuo. Perché pretendi tu, verme insignificante, di contestare la parola divina chiedendo a Dio di dimostrare la propria esistenza? Pretendere che Dio si mostri? Chi sei tu per tentare il Dio tuo Signore? Tu che non vivi di solo pane, ma anche di ogni parola che esci dalla bocca di Dio, pretendi di tentarlo? Già, ogni volta che viene supplicato, Dio è sempre troppo occupato o troppo stanco. La Chiesa Cristiana maledirà il dolore e la malattia come amore di Dio nei confronti dei malati che dando loro dolore li porterà ad essere beati. La Chiesa Cristiana maledirà i malati e chi soffre in quanto quello è il castigo di Dio per i loro peccati. Non male per chi usa il dolore al fine di controllare le pecore del proprio Grece. Perché tentare Dio? Dimostrami di esistere, affermano i popoli, ma Dio t'ha cemuto. Ed ecco i filosofi dei cristiani nella ricerca delle prove dell'esistenza di Dio fino all'aberrazione anselmiana di anselmiana memoria. Esisti perché di penso. Tanto la gente che può fare nei confronti degli dèi? Adorare. Può forse un cristiano concepire qualche cosa di diverso? Ogni uomo adora. Non importa se adora il sole o un Dio impersonale o un'immagine. Per il cristiano un essere umano può solo adorare. Per un cristiano il mondo è fatto di essere in ginocchio che vanno conquistati la propria causa. Pagani adoratori da convertire. Fino ad allora l'atteggiamento religioso e vita civile venivano vissuti con un certo distacco. Vedi a Roma l'atteggiamento religioso era un atto personale. L'impegno civile era la parte pubblica del fare del cittadino. All'interno di questa visione Roma concedeva a chiunque il diritto del proprio culto. Pure i cristiani che non ne avevano il diritto lo avevano però gli ebrei in quanto non erano una religione o un popolo ma una variabile in essa si fa per dire si potevano riunire nelle catacombe protetti da una legge che vietava l'arresto nei cimiteri. I cristiani si stanno preparando ad appropriarsi della vita civile per poter imporre il proprio credo attraverso la trasformazione in legge della propria morale e dei propri principi. Adorare il Dio dei cristiani non è più una libera scelta ma un dovere imposto per legge con prigione ed eserciti come per legge vengono imposti i principi cristiani. Quante volte i preti cristiani e i cattolici in particolare sorretti dei cannoni dei loro eserciti i colonialisti diranno ai selvaggi fra virgolette che vogliono privare del pane dimmi è più forte il mio o il tuo Dio con questo dimostrando l'inconsistenza del credo cristiano. A Luca questo racconto va a pennello cambia soltanto alcuni tratti apparentemente marginali non è lo spirito santo a condurre Gesù ma è Gesù che va pieno di spirito santo inoltre Gesù non viene portato su una montagna da cui si vedono tutti i regni del mondo ma più semplicemente è portato in alto piccole cose che mettono in evidenza una maggiore attenzione di Luca nel costruire il suo Vangelo e il diverso referente. e questo è la nona parte prossima volta ci finiremo l'ultima parte praticamente l'ultimo dell'anno ed è l'autoproclamazione di Gesù come figlio di Dio questa è la nona parte della seconda parte del Gesù di Nazareth l'infamia umana e per comprendere che quello che facciamo noi non è una cosa nuova ma è una cosa che già i pagani antichi avevano tentato leggiamo invece da Celso Celso scrisse contro i cristiani quel libro andò bruciato perduto distrutto ciò che ci è rimasto è il commentario che ne fece Origene Origene scrisse un libro contro Celso ricordatevi che Origene è uno che si è tagliato i coglioni e dopo se ne è pentito amaramente era uno che pensava di essere un padre e un padre dottore della chiesa e fu scacciato dalla chiesa per eresia bene Origene scrive un libro contro Celso e grazie a quel libro contro Celso ci tramanda alcuni passi ebbene Celso già scriveva e siamo nel secondo secolo non è forse ridicolo questo che un semplice uomo adiratosi contro gli ebrei ne sterminò tutti gli adulti e ne mise a fuoco la città così da nulla essi erano mentre invece Dio è grandissimo come essi dicono adirato e sdegnato e minaccioso manda il proprio figlio e patisce quel che patisce ma desidero chiarire ulteriormente quanto ho detto perché il discorso non si limiti ai soli ebrei non è questo il mio scopo ma si estenda alla natura intera come promisi affermano dunque che Dio ha creato ogni cosa per l'uomo ma in realtà ogni cosa è nata non più per gli uomini che per gli animali privi di parola ne io credo opere di Dio i tuoni i fulmini e le piogge perché i cristiani allora dicevano che i tuoni i fulmini e le piogge erano opera di Dio e anche adesso fanno processioni per le piogge pregando il loro Dio ma anche ammesso dopo di che gli stregoni fanno la danza della piogge magari piove tanto per essere chiari ma anche ammesso che queste siano opere di Dio esse non si verificano certo per vantaggio di noi uomini ai fini del nostro nutrizio più che a vantaggio delle piante degli alberi delle erbe dei pruni se poi mi si dice che le piante crescono per gli uomini perché si vorrà affermare che esse crescono per gli uomini e non per le bestie brute e selvagge noi riusciamo a nutrirci a stento e con fatica a prezzo di sudori e di sofferenze per esse invece tutto cresce senza seminagione e senza ratura se poi mi citerà mi citerai anche quel verso di Euripide il sole e la notte sono servi dei mortali perché mai qui mortali dovremmo essere noi e non le formiche e le mosche in effetti anche per loro viene la notte per riposare e il giorno per vedere e per lavorare e se mi si verrà a dire che le bestie prive di parola sono state create per gli uomini e che noi siamo i loro dominatori perché diamo la caccia ai muti animali e di essi ci cibiamo risponderò perché mai non dovremmo noi essere nati per essi dal momento che ci danno la caccia e ci divorano inoltre mentre noi abbiamo bisogno di reti di armi dell'aiuto di molti uomini e di molti cani per dar loro la caccia ad essi la natura che tanto facilmente ci sottomette al loro potere ha dato le armi fin dalla nascita e in modo autonomo alla nostra obiezione che Dio cioè ci ha concesso il potere di catturare le bestie e di servircene risponderò che prima che esistessero le città le arti le attuali relazioni fra gli uomini e le armi e le reti verosimilmente gli uomini erano preda e pasto delle bestie mentre le bestie per poco o per nulla venivano catturate dagli uomini pertanto considerate così le cose è più vero che Dio sottomise gli uomini alle bestie dunque questo cesso confuta uno dei ragionamenti fondamentali dei cristiani che i cristiani facevano ancora nel 200 dopo Cristo e se voi notate l'ultimo passo l'ultimo periodo quando dice risponderò che prima che esistessero le città le arti le attuali relazioni fra gli uomini e le armi e le reti verosimilmente gli uomini erano preda e pasto delle bestie bene già solo questo concetto implica una trasformazione sociale una nascita della civiltà un divenire che era già dentro gli uomini che era già dentro al pensiero degli esseri umani per cui non Dio ha creato l'uomo e gli ha dato la vita ma già nel paganesimo c'era il pensiero che l'essere umano era debole e fragile e ha dovuto organizzarsi come sistema sociale per riuscire a vincere la natura che era più forte di lui già questo pensiero e questo pensiero vale una vera e propria rivoluzione etica e morale di cui i cristiani nemmeno se lo sognano ebbene Celso fa parte sempre di quel gruppo di pagani che vi ho raccontato oggi che con Proclo Porfirio insomma e tutti gli altri Ammonio Sciacca Giamblicco hanno tentato di ricostruire il paganesimo dando una struttura un modo di essere e hanno fatto un lavoro spaventoso perché il neoplatonismo ha fatto effettivamente un lavoro spaventoso anche se io con il 90% di quel lavoro non sono assolutamente d'accordo infatti la guerra è stata persa anche perché la visione della vita è diversa da ciò che la descrizione ci dà cioè la percezione alterata ci porta a vedere delle cose che la descrizione non è in grado di raggiungere e allora non si può mai scrivere una verità purtroppo si può scrivere soltanto un percorso di libertà e questo i pagani di allora non riuscirono a comprendere questo fu il grande errore che fecero che fece la costruzione del paganesimo però Celso fa parte appunto di tutti quei pagani che allora resistevano all'arrivo dei cristiani ma resistevano essenzialmente non tanto al cristianesimo ma alla ferocia che il cristianesimo era portatore cioè alla morale di morte che il cristianesimo stava portando all'ordine di sottomissione questa era la loro vera resistenza e vediamo un attimino un'altra visione un attimo diversa perché dal momento che il deserto ci ha restituito dei pezzi ci ha restituito dei pezzi di Vangelo di Tommaso di Dimo quello appunto che sto offrendo delle coppie per riuscire a salvarmi dai spese di un altro fotocopiatore o o qualcos'altro del genere bene leggiamoci un attimino un attimino un pezzo commentato nel Tommaso di Dimo l'ultimo stragone pagano ed è esattamente il paragrafo 22 il paragrafo 22 voi non lo troverete in nessuno dei Vangeli ufficiali se non con degli accenni molto particolari attenzione cosa dice il paragrafo 22 Maria domandò a Gesù a chi assomigliano i tuoi discepoli e gli rispose sono simili a bambini che si intrattengono in un campo che non appartiene loro allorché verranno i padroni del campo diranno lasciateci il nostro campo essi saranno nudi e saranno e fra virgolette perché probabilmente è una parola che indica i due davanti a loro mentre lasciano e restituiscono il campo perciò dico se il padrone di casa sa che verrà il ladro vigilerà prima che venga e non permetterà che penetri nella casa del suo regno e asporti i suoi beni ma voi vigilate il cospetto del mondo cingetevi i fianchi di grande potenza affinché i ladri non trovino la strada per giungere fino a voi già che il profitto che aspettate essi lo troveranno ci sia fra voi un uomo giudizioso affinché il frutto è maturo e gli viene subito recando in mano la sua falce e lo raccoglie chi orecchie per intendere intenda vediamo la spiegazione che ne dà la stregonaria al paragrafo 22 che poi può essere sia il 22 che il 23 a seconda del tipo di numerazione che è stata data ebbene il paragrafo 22 viene così commentato in questo paragrafo interviene una figura di donna Maria non è la madre di Gesù come vogliono far credere i Vangeli Ufficiali ma è un altro aposto un altro seguace la domanda che fa Maria è importante in quanto chiede di emettere un giudizio il giudizio è secco sono simili a bambini che si intrattengono in un campo che non appartiene loro perché il campo non appartiene loro perché appartiene al padrone no perché non hanno ancora cominciato ad arare e coltivare se stessi perché non si sono ancora trasformati ma sono come bambini che giocano con un nuovo giocattolo non hanno ancora compreso che ciò che hanno la vita non è un giocattolo ma un terreno nel quale ci si deve appropriare lavorare e costruire loro invece giocano ma poi venne la morte del corpo fisico allorché verranno i padroni del campo diranno lasciateci il campo e davanti a questa se avranno continuato a giocare saranno nudi il campo è il corpo fisico di cui la coscienza dell'essere non è padrona la morte del corpo fisico altro non è che la restituzione del campo la coscienza in quel momento è padrona del campo ma deve essere consapevole che verrà il momento in cui verrà derubata del campo la sequenza dei mutamenti del corpo fisico cesserà e la coscienza sarà priva del campo la coscienza dell'essere sapendo che verrà privata del campo non permetterà che chi la privi del campo la privi anche di se stessa la coscienza deve agire per poter sopravvivere anche in assenza del campo il ladro si prende il campo ma non limiti o danneggi il divenire della coscienza né ne asporti i beni di cui la coscienza si è nutrita il suo sapere e la sua conoscenza il corpo fisico è parte della forma del mondo il mondo può prendersi quanto gli appartiene il corpo fisico ma non può né deve prendersi la coscienza dell'essere sottomettendolo e asservendolo l'individuo deve dunque cingersi i fianchi di grande potenza deve accumulare il proprio potere di essere deve portare a sviluppare continuamente il proprio corpo luminoso affinché i ladri che comunque lo priveranno del corpo fisico non siano in grado di sottometterlo e di distruggere la sua coscienza ogni tipo di profitto di ordine materiale ogni forma di possesso sarete costretti a cederla la morte del corpo fisico vi priverà di tutto quanto possedete come beni materiali questi beni saranno trovati per il semplice motivo che una volta che sarete privati del campo il corpo fisico ogni altra cosa col tempo verrà trovata da chi verrà dopo di voi l'ultima parte è molto dura da leggere ci sia fra voi sempre un essere umano che sappia cingersi i fianchi con grande potenza che una volta che ha costruito se stesso il futuro il frutto maturo si trasformi colga l'occasione per trasferire la propria coscienza di sé dal corpo fisico al corpo luminoso l'ultima frase è quella che distingue i passi criptati da quelli che vengono letti in maniera letterale nei Vangeli Ufficiali troviamo un riferimento sul vigilate mentre in Tommaso è necessario vigilare nei confronti del mondo ed è necessario cingersi i fianchi di grande potenza onde impedire ai ladri di portarsi via cose diverse dal corpo fisico e dalle cose materiali in Matteo la vigilanza è necessaria in quanto gli esseri umani sono servi del padrone che in qualsiasi momento può giungere in Matteo gli esseri umani non sono padroni di se stessi non sviluppano il loro divenire ma sono asserviti la vigilanza non sta nella difesa della costruzione del proprio corpo luminoso del loro essere Dio dalle contrapposizioni e dagli ostacoli che dal mondo possono venire ma dal loro essere assoggettati a Dio devono essere guardinghi perché in ogni momento Dio può venire a controllare la loro sottomissione dice Matteo considerate bene questo se il padrone di casa sapesse in quale vigilia della notte il ladro deve venire veglierebbe certamente e non lascerebbe spogliare la sua casa quindi anche voi stiate preparati perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora più impensata qual è dunque il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sopra la gente di casa sua per dar loro cibo a suo tempo beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà così occupato in Matteo il concetto di vigilanza è finalizzato a mantenere la condizione della propria schiavitù e sottomissione il servo è vigilante nelle commissioni imposte dal padrone non è vigilante per costruire se stesso nella seconda parte del suscritto ciao Giorgio scusate un attimo solo grazie per le visite grazie per i saluti allora in Matteo il concetto di vigilanza è finalizzato a mantenere la condizione della propria schiavitù e sottomissione il servo è vigilante nelle commissioni imposte gli dal padrone non è vigilante per costruire se stesso nella seconda parte del suo scritto Matteo fa l'esempio del servo che verrà punito perché maltrattando i servi di casa vuole sostituirsi al padrone in quanto non pensa che il padrone possa tornare a Matteo non balza in mente che il servo potrebbe semplicemente andarsene la semplice idea di prendere il proprio destino nelle proprie mani fa inorridire Matteo tanto che non la prende nemmeno in considerazione per lui gli esseri umani o sono servi o pretendono di sostituirsi al padrone in questo secondo caso a Matteo appare del tutto logico e naturale che il padrone lo punisca con quale diritto il padrone punisce il servo che non ha ottemperato alle direttive imposte lì col diritto del più forte dove sta la giustizia nelle sue azioni in nessun luogo in quanto il servo non deve attendersi giustizia del padrone ma solo premi o percosse a seconda del giudizio del padrone in Tommaso il concetto è capovolto la vigilanza deve essere fatta per proteggere la costruzione del corpo luminoso il diritto di essere Dio il diritto di costruire il regno dentro di sé la propria libertà la libertà di trasferire la propria coscienza di sé all'atto della morte del corpo fisico esistono delle similitudini nell'uso delle parole e degli esempi ma la direzione dei Vangeli ufficiali con quella di Tommaso è opposta bene quello che vi ho letto è il commento al paragrafo 22 del Vangelo di Giuda Tommaso Didimo che per noi rappresenta l'ultimo stragone pagano l'ultimo stragone pagano non perché è l'ultimo ma è l'ultimo che affronta direttamente la sfida all'interno dell'agnosi all'interno della costruzione del cristianesimo per battere Tommaso Didimo ci vorrà sia Giovanni che la violenza militare sembrerebbe da alcune notizie che ci sia che la base di mani del lavoro di mani cioè la diffusione del manicheismo sia proprio dovuta al fatto di questo Vangelo cioè questo Vangelo in realtà fu la base su cui venne a costruirsi il manicheismo però queste sono ipotesi non c'è niente di sicuro anche i Naseni che si scrive una roba del genere sembrerebbe che anche loro avessero questo Vangelo alla base della loro filosofia e per vedere di legare le cose per vedere di legare la vita del paganesimo andiamo invece a leggersi dei passi scusate un attimo solo dei passi sul lavoro che presenteremo il prossimo anno da marzo penso in poi cioè i frammenti i frammenti caldaici gli oracoli caldaici i frammenti che ci sono pervenuti e vi leggo il frammento 116 perché le cose divine non sono accessibili ai mortali che intuiscono secondo il corpo ma quanti si affrettano verso l'alto i nudi ricordate cosa diceva Tomaso Didimo un giorno dovranno abbandonare il corpo un giorno saranno nudi diceva allorché verranno i padroni del campo diranno lasciateci il campo essi saranno nudi davanti a loro mentre lasciano e restituiscono il campo e dice perché le cose divine non sono accessibili ai mortali che intuiscono secondo il corpo ma quanti si affrettano verso l'alto i nudi in pratica le cose divine cioè il divino che esiste attorno a noi non è accessibile attraverso la ragione attraverso la descrizione ma è possibile soltanto attraverso l'alterazione della percezione e quando si altera la percezione vi assicuro che si è nudi si è assolutamente nudi voi pensate solo a questa condizione cioè a una condizione che serve anche da esempio se una persona ha in mano e sa usare un fucile kalasnikov o mitra tanto per essere chiaro e ha un leone davanti bene con una sventagliata di mitra quel leone non esiste più eppure un essere umano senza un mitra davanti a un leone il leone se lo mangerebbe almeno se ha fame chiaramente se le condizioni concorrono bene in percezione alterata voi vi trovate davanti o chiunque si trova davanti degli oggetti che non sono oggetti ma sono esseri sono esseri di energia davanti ai quali non esiste nessuna possibilità di difesa se non ciò che abbiamo dentro cioè la nostra volontà le nostre determinazioni e soprattutto il nostro intento bene davanti a quella sfida davanti a certi combattimenti si è effettivamente nudi cioè non si hanno armi non si hanno protezioni non si hanno kalasnikov non si hanno non si hanno scudi non si ha niente per cui per riuscire a prendere il divino ci si esalta cioè ci si altra la percezione ma all'interno di questo si è nudi e vediamo cosa ci dice il frammento 117 è un frammento formato soltanto da quattro parole dice salve per forza propria cioè si è salvi soltanto esclusivamente per la forza propria per la forza che abbiamo noi su questo ci salva e vediamo il frammento 118 cosa è scritto ad alcuni concesse di cogliere per apprendere il segno della luce altri anche durante il sonno fecondò della sua forza cioè il potere lo possiamo prendere sia da svegli sfidando la vita alterando la percezione cioè il segno della luce oppure lo possiamo prendere possiamo alterare noi stessi variare noi stessi attraverso il sognare e questo è il frammento 118 cioè sta roba qua praticamente ha sicuramente 2000 anni cioè è molto più antica di ogni Vangelo ufficiale che voi potete trovare e fa parte della filosofia storica bene vediamo un altro frammento il frammento 119 forza che unisce al Dio ciò che unisce al Dio ciò che unisce al Divino che abbiamo attorno è la forza che noi abbiamo ed è il frammento 120 un sottile veicolo dell'anima ma vediamo il frammento 121 il mortale che si sia accostato al fuoco avrà la luce la luce della conoscenza e della consapevolezza sia soltanto quando ci si accosta al fuoco quando si diventa fuoco e a proposito del diventare fuoco della conoscenza del fuoco abbiamo un'altra citazione da parte del Giuda Tommaso di Edimo ed è il paragrafo numero 80 83 82 83 comunque seconda delle numerazioni dove dice Gesù disse colui che è vicino a me è vicino al fuoco colui che è lontano da me è lontano dal regno ricordo che il regno in Tommaso ogni volta che noi entriamo in percezione alterata è luce o fuoco tutte le relazioni sono fatte con la luce o col fuoco non esiste grande differenza fra le due cioè esiste una differenza di percezione soggettiva cioè si può vedere la luce come abbaglio o si può sentire il fuoco come come fasce come fasce avvolgenti diciamo in questo modo va bene io vi ho raccontato un po' di quello che sto facendo di quello che stiamo facendo questi oracoli caldaici rappresentano la base su cui ha lavorato Proclo su cui ha lavorato Porfirio su cui ha lavorato Ammonio Sacca sono stati lavorati da altri e sembrerebbe che la loro stesura sia fatta sia stata fatta da Giuliano il Caldeo e da Giuliano il Teurgo suo figlio cioè sono stati loro due a fare questa operazione e questa operazione sicuramente di Giuliano il Caldeo e Giuliano il Teurgo ha una derivazione orientale ha una derivazione siriana e guarda caso fa parte di tutto quel ciclo di di credenze pagane di sentire pagani che passano attraverso la Fenicia gli Ittiti gli Urriti i Persiani i Parti e arrivano fino all'India dove a un certo punto tutto quanto si mescola dove a un certo punto tutto quanto diventa uno dove tutto prende qualcosa dall'altro e costruiscono dei sincretismi religiosi dei sentire religiosi per cui è un periodo in cui i sentire pagani si stanno fondendo si sta comprendendo che ogni paganesimo sta diventando uno già c'era precedentemente tutto il discorso indoeuropeo tutto il discorso della radice di luce luce è una radice indoeuropea che sta per Dio cioè Dio significa luce in realtà cioè ha una radice linguistica e noi troviamo questa radice sia in Zeus in Giove indiana cioè in tantissime divinità che hanno la radice indoeuropea di luce per cui si pensa che tutto quello che sono state le divinità che vanno a definire le cose col termine di luce siano di origine indoeuropea cioè fanno parte delle grandi migrazioni ariane che partirono dall'India e giù sarò anche in Italia comunque questo fa parte della ricerca archeologica questo fa parte delle ricerche di tutte le ricerche però resta quello che è insomma cioè non è che interessi più di tanto il lavoro che stiamo facendo noi bene detto tutto questo passiamo invece ad un argomento un po' più frivolo perché ormai mi si sto un attimino friggendo il cervello e l'argomento un po' più frivolo è la nostra rassegna stampa che facciamo ogni tanto io sono una mezza barca volevo fare un giorno la segna stampa e un giorno la conferenza ma mi porterebbe troppo distante rispetto a quello che voglio fare cominciamo dalla Repubblica del 23 dicembre 1998 se qualcuno vuole telefonare il telefono dovrebbe ci stanno lavorando sulle linee telefoniche per cui non vi preoccupate se non prendete la linea comunque dovrebbe essere libera allora dalla Repubblica del 23 dicembre 1998 bombe blasfeme per l'Islam non c'è reato più grave che offendere il sacro nome di Allah e i suoi precetti allora cos'è la blasfemia vediamo un po' di esempi che ha usato l'Islam sulla blasfemia no? per l'Islam allora l'annuncio che su una delle bombe americane sganciate sull'Iraq c'erano scritte con insulti al Ramadan il più sacro dei mesi islamici rischia di trasformarsi in un boomerang ancora più di vastante per gli Stati Uniti praticamente su una bomba dei Stati Uniti qualche statunitense c'è scritto una serie di insulti per il Ramadan cosa significa insultare una cosa o definire una cosa? se io definisco il digiuno del Ramadan una cosa cattiva o nociva per la salute nessuno può dire che io sono blasfemo ma se io dico che solo gli idioti praticano il Ramadan io sono blasfemo io faccio degli insulti e sono due cose completamente diverse e fra le altre cose c'è la Coca-Cola che ha perso quote di mercato in Medio Oriente a vantaggio del rivale Pepsi-Cola per aver pubblicato nel 1996 sulla rivista Life una pubblicità che ritrae un fedele musulmano prostrato di fronte a un logo della Coca-Cola a forma cubica che ricorda l'edificio della Caba alla Mecca ed è chiaro che questa è una blasfemia questo è un insulto cioè perché se uno si mette in ginocchio davanti a quello che ritiene il suo Dio in questo caso a noi non ci sta bene perché è una regione rivelata cioè tu non li metti al posto del suo Dio delle sue immagini la forma della Coca-Cola cioè questo è veramente vuol dire se è una merda cioè è blasfemia è insultare un sentire religioso che è diverso da dire l'imbecille si mette in ginocchio davanti a qualcosa che non esiste che è questa un'altra cosa ancora e andiamo avanti ancora Claudia Schiffer è stata messa nella lista nera degli integristi islamici per aver sfilato nel 1994 con un abito della collezione Chanel firmata da Karl Langesfeld con scritte coraniche scusate un attimo scritte coraniche per un vestito una moda insomma mi sembra abbastanza presa in giro la religione era solo insulto per cui effettivamente quella è blasfemia un conto è l'attacco a una religione condannare una religione condannare dei riti eccetera un altro conto è la blasfemia gratuita pronto pronto ciao Claudio sono Roberto dimmi ciao ciao mi ha fatto il paragrafo 22 mi ha fatto una promessa e che ritorna adesso questo non mi ha capito scusa ricomincia da capo si Claudio ti devi appena parlare di questo paragrafo 22 no? si ti devi parlare del Tommaso del Tommaso Didimo si il paragrafo 22 si mi ha detto non mi ha capito bene però voglio che ti mi fessi una promessa eh puoi tu ritornare ancora su questo argomento qua? ma muolo tutto e vò subito eh ma immediatamente eh ti mi fai semplice perché guarda se non sta la vai a testa fin adesso poi niente eh perché adesso me accoso di come che sei veramente la via si è un po' diverso non so se sia esattamente così se senti in mente si immediatamente cosa in mente se lo rilego certo mi ti ringrazio Claudio grazie a te ciao tanti auguri tanti schei e tante felice grazie a te dice non prendo le telefonate finché non ho finito il discorso per cui inutile che telefonate in questo momento allora intanto intanto il Vangelo di Tommaso Didimo è un insieme di versetti cioè un insieme di frasi dove non ci sono miracoli non c'è il figlio di Dio non c'è il Dio che manda i fulmini non ci sono processi non c'è niente di tutto questo non ci sono crocefissioni non c'è niente di tutto questo allora il versetto 22 dice testualmente Maria domandò a Gesù a chi assomigliano i tuoi discepoli e gli rispose sono simili a bambini che si intrattengono in un campo che non appartiene loro allorché verranno i padroni del campo diranno lasciateci il nostro campo essi saranno nudi davanti a loro mentre lasciano e restituiscono il campo perciò dico se il padrone di casa sa che verrà il ladro vigilerà prima che venga e non permetterà che penetri nella casa del suo regno e asporti i suoi beni ma voi vigilate al cospetto del mondo cingetemi i fianchi di grande potenza affinché i ladri non trovino la strada per giungere fino a voi già che il profitto che aspettate essi lo troveranno ci sia fra voi un uomo giudizioso allorché il frutto è maturo e gli viene subito recando in mano la falce e lo coglie che orecchie per intendere intenda cosa significa questo praticamente c'è stamaria che sarebbe una sua discepola che non ha niente che vedeva con madonna o qualcosa è semplicemente una sua discepola che chiede a Gesù ma cosa ti sembra dei tuoi discepoli e che dice vedito come dei fioi come dei bambini che stanno giocando sopra una terra dentro un campo che non è il loro cioè loro i credi i seracchi i soga poveretti non sanno che invece la vita è una guerra la vita è una battaglia per costruirsi eppure loro giocano però un giorno verrà il parone del campo verrà la morte del corpo fisico e la morte del corpo fisico porta via il campo per cui loro saranno nudi davanti alla morte allora cosa devono fare queste persone devono costruire costruire le loro conoscenze il loro sapere la loro consapevolezza perché così possono restituire il campo senza perdere la loro conoscenza la loro consapevolezza dice ancora se il ladro di casa sa che verrà il ladro cioè se siete secchi e viene la morte del corpo fisico che il tuo fisico more il tuo corpo muore devi essere attento devi vigilare prima che venga e non permettere di trovarti debole quando lui arriva e ti porta via il corpo fisico devi coltivare la tua conoscenza la tua consapevolezza il tuo sapere per cui dovete vigilare davanti al mondo dovete combattere dovete costruirvi dovete affrontare la vita e dovete cingere i fianchi di grande potenza che vuol dire dovete farvi forti il più forti possibile affinché i ladri affinché quelli che vogliono mettervi in ginocchio non trovino la strada per arrivare a voi non sappiano come prendervi giacché il profitto che aspettate essi lo troveranno cioè se vi altri aspettate e vi mette seduti ad aspettare anziché cingervi i fianchi con potenza affrontare il mondo affrontare le contraddizioni della vita gli altri trova quel che vi altri gavè vi troveranno la casa vi troveranno i tesori vi troveranno i schei vi troveranno quel che gavè per cui voi quello ve lo porteranno via e dice infine ci sia fra voi un uomo giudizioso cioè se ben che in ogni cultura in ogni sistema sociale ci sia un don quixote ci sia sempre qualcuno che affronta l'assurdo che affronta la vita che affronta per cambiare le cose questo è l'essere giudiziosi è che tiri gli altri ad affrontare la vita e ad affrontare le cose e al paragrafo 22 di Tommaso si contrappone quello che vi ho detto di Matteo cioè si contrappone questo considerate bene questo se il padrone di casa sapesse in quale vigilia della notte il ladro deve venire veglierebbe certamente non lascerebbe spogliare la sua casa quindi anche voi siate preparati perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora più impensata quale dunque il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sopra la gente di casa sua per dar loro il cibo a suo tempo beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà così occupato cioè mentre da un lato Tommaso dice alle persone voi dovete affrontare la vita dovete combattere non dovete essere come i bambini che stanno giocando dovete imparare a prendervi nelle vostre mani la responsabilità della vostra vita sta altro Matteo dei Vangeli Ufficiali dice tu devi essere occupato ad adorare il tuo padrone a far quello che il tuo padrone ti dice devi essere servo del tuo padrone non devi costruire la tua potenza non devi costruire il tuo potere il padrone si cinge i fianchi di potenza in Matteo mentre invece in Tommaso è l'essere umano che si cinge i fianchi di potenza per affrontare la vita per costruire la vita queste sono le differenze fondamentali che ci sono fra i due Vangeli uno costruisce l'uomo voi non troverete mai io sono nel Vangelo di Tommaso io sono il figlio del Dio padrone dice il padre il regno ma padre e regno in Tommaso significa intento e necessità cioè c'è l'intento di fare la cosa e la necessità di farla questo è il padre della vita perché la vita nasce da necessità e intento e si sviluppa attraverso volontà cioè il farsi Dio dell'individuo mentre invece in Matteo questo non esiste assolutamente in Vangeli ufficiale questo non esiste esiste solo l'obbedienza al Dio padrone ed ecco il Dio padrone allora che dice nella seconda parte del suo scritto Matteo fa l'esempio del servo che verrà punito perché maltrattando i servi di casa vuole sostituirsi al padrone in quanto non pensa che il padrone possa tornare a Matteo non balza in mente che il servo potrebbe semplicemente andarsene la semplice idea di prendere il proprio destino nelle proprie mani fa inordidire Matteo tanto che non la prende nemmeno in considerazione per lui gli esseri umani o sono servi o pretendono di sostituirsi al padrone in questo caso a Matteo appare del tutto logico e naturale che il padrone lo punisca con quale diritto il padrone punisce il servo che non ha ottemperato le sue direttive impostegli? col diritto del più forte dove sta la giustizia nelle sue azioni? in nessun luogo in quanto il servo non deve attendersi giustizia del padrone ma solo premi o percosse a seconda dei giudizi del padrone questo è il senso del Vangelo di Ufficiali che non ha niente a che vedere col Tommaso di Idimo che è tutta un'altra cosa e vi ricordo che il Vangelo di Tommaso di Idimo lo abbiamo perché è stato recuperato dal deserto cioè un ognostico del del 400 dopo Cristo circa ha preso questa biblioteca che lui aveva l'ha messo in una giara una damigiana una giara praticamente e l'ha seppellita nel deserto di Nag Namadig non so come si pronunci bene e grazie al deserto ci ha conservato questi libri è vero che chi che li ha trovati ne ha bruciate un po' di coppie per accendere il fuoco però tutti i Vangeli gnostici sono stati trovati e sono parecchi sono moltissimi non è solo questo ci sono anche delle cose diversissime oltre a questo ci sono gli arconti il Vangelo di Verità eccetera ci ha permesso di ricostruire un pensiero che altrimenti sarebbe andato perduto è come se Tommaso di Idimo avesse scritto questo Vangelo lo avesse fatto sotterrare per farcelo arrivare a noi e dice ecco io vi do questa arma io vi do questo strumento perché voi possiate combattere meglio la vostra battaglia questo è ciò che ci è arrivato da Tommaso di Idimo e comunque vi ricordo che questo libro sarà in distribuzione spero già da giovedì prossimo già da giovedì prossimo poterlo prestare poterlo dare perché questo libro mette effettivamente in evidenza gli scopi dei Vangeli lo scopo vero lo scopo della vita dei Vangeli ufficiali e dei Vangeli gnostici dall'altro lato ed è importantissimo secondo me è una delle operazioni più importanti che siamo riusciti a fare io spero di essere stato chiaro riprendo le telefonate se qualcuno telefona anche se i minuti ormai sono pochi bene andiamo avanti con la trasmissione sperando che i ragazzi di musica arrivino perché ormai siamo quasi alle 8 andiamo avanti ancora vi ricordo che le linee telefoniche sono sempre aperte se qualcuno gli interessa se poi nessuno gli interessa mi fate sempre un piacere 100.000 no alle scuole private c'è stata una manifestazione di 100.000 studenti a Roma contro le scuole private e vabbè cosa significa questo niente significa che 100.000 persone hanno detto che loro non ci stanno a finanziare scuole private e questo qua vabbè fa parte della dialettica attenzione però cosa risponde Biffi e qui l'importante non è il fatto che uno abbia delle idee o faccia delle pressioni cioè uno ha diritto di fare qualunque pressione anche Biffi ha il diritto di fare le sue pressioni però c'è modo e modo di fare pressioni abbiamo letto prima cosa è blasfema allora dice Biffi dalla Repubblica del 22-12-1998 sulla parità ignoranti manipolati e cattivi profeti cioè in pratica dice che quelli che non vogliono il finanziamento della Chiesa Cattolica sono degli ignoranti sono dei manipolati cattivi profeti come se il Dio dei cristiani non manipolasse la gente il problema è che è Biffi che vuole manipolare la gente questa gente non ci sta la sua manipolazione e questa gente gli sfugge allora loro che gli sfuggono sono i manipolati non Biffi che è un ferme io su Biffi ho tutta una raccolta di articoli proprio perché Biffi mi sta dimostrando uno degli assiomi fondamentali del paganesimo e io di questo non finirò mai di ringraziarlo ma oltre a Biffi abbiamo un'altra cosa abbiamo una cosa ancora più pesante e abbiamo un personaggio che si chiama Maggiolini un altro vescovo il vescovo di Como che attacca anche lui le manifestazioni e cosa dice agli studenti studenti anarcoidi pronti per la P38 questo questo Maggiolini sta pronto ciao Roberto ciao Roberto c'è sento lo so che vi è ingressito certo buono stai sento adesso che ti tiri fuori sono il mio amico che fa i cocktail che fa la danza dei miliardi eh quella danza dei miliardi quello Giordano sì sì eh ma me lo tengo per un momento migliore sto facendo la racconta di tutto quello che serve là non me lo dimentico anche una promessa sì 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 guarda ciao ciao grazie ciao 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 bene io sono arrivato alla fine della trasmissione ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito ringrazio tutti quelli che mi hanno telefonato ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato aspetta un attimo vediamo un attimo come sei pronto pronto no si è caduto è caduta la linea senti Giuseppe io ti ringrazio della telefonata aspetta vediamo un attimo pronto ciao Giuseppe dimmi vuoi saperne una sì dai forse l'hai letta ma non l'hai accennata dimmi c'è un grosso problema in Vaticano sai ah sì siccome devono adottare l'euro no sì e sono indecisi quale esige stampare sull'euro in carta no eh e sono incerti tra l'attuale pontefice e il cardenale Giordano ah sì sì io opterei per Giordano dà più l'idea del leggi leggi sulla repubblica l'angolino delle opinioni del mondo no il The Guardian eh hanno riportato quattro righe la pagina 15 di oggi dimmi di che giorno forse ce li ho ancora oggi 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 di oggi eh devo ancora vederlo quello di oggi la pagina 15 eh devo vederlo ancora eh è una un articoletto che riguarda una notizia riportata da The Guardian lo leggo ho capito cosa mi stai dicendo qual è la serie di giornali stranieri che c'è sulla repubblica sì me lo guarderò eh c'è questo dubbio approcci sei ciao ciao buona giornata buona giornata ciao 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 grazie a tutti scusate sono in straritardo qui sono già arrivati i ragazzi puntualissimi alla perfezione eh grazie per avermi ascoltato io sono Claudio Simeoni piazzale Parmesan Otto Marghera vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti Castella Postale 53 Marostica Vicenza vi do appuntamento per giovedì prossimo e parleremo qualche parola sul crocello dello stregone e concluderemo la seconda parte di giornata dell'infamia umana grazie per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo e ancora grazie e buone feste a tutti